Acquistare con Pagolite è davvero molto semplice, bastano pochi semplici passaggi. Prima di iniziare ricorda di preoccuparti una carta di credito o di debito, l'importante è che non sia una carta prepagata, quindi no una post pay, e il tuo documento d'identità. Iniziamo insieme. In questa schermata scegli quante rate vorrai finanziare il tuo ordine. Qui invece dovrai inserire i tuoi dati personali, nome, cognome, l'email e il codice fiscale. Inseriti i tuoi dati, clicca su consenti, di nuovo consenti, conferma. Dove risiedi, quindi la provincia, il comune, il CAP e clicca su avanti. Qui puoi scegliere cosa utilizzare, se è un IBAN o carta di credito. Ti ricordo che Pagolite non accetta le prepagate. In questo caso abbiamo utilizzato una carta di credito. Qui dovrai inserire i numeri della carta di credito che trovi sulla parte avanti e la data di scadenza e il CVV che sono in tre numeri. Qui è arrivato il momento di scattare una foto. Clicca su conferma e procurati appunto il tuo documento d'identità. Qui è molto importante perché dovrai autorizzare il browser ad utilizzare la fotocamera. Quindi schiaccia su abilità la fotocamera e mi raccomando su consenti. Devi poggiare il tuo documento su un piano e scattare la fotografia. Ricordati di proseguire anche, poi fai carica e di fare anche la foto al retro del tuo documento. Qui non lo vedi, per andare avanti abbiamo accelerato. In questo passaggio dovrai farti un selfie. Non occorre, se hai occhiali, meglio toglierli. Non preoccuparti, non è una foto visibile a nessuno. È una foto che viene gestita dal computer. Ci siamo quasi. Attendi, ma non cliccare nulla. Nella prossima schermata dovrai, se te li richiede, confermare i dati del documento. Quindi dove è stato rilasciato, la data di scadenza, la provincia. Attendi sempre senza cliccare nulla. Adesso, questo è l'ultimo passaggio. Pagolite ti ha inviato un SMS, come vedi in questo caso. Un SMS di conferma. Nel nostro caso il codice è 400860. Il codice è personale, non è questo. Ogni volta te ne arriverà uno diverso. Anche adesso, aspetta senza cliccare nulla. Fatto, il pagamento è andato a buon fine. Ti porterà alla schermata del nostro sito con ordine completato.